Ed ora la ginnastica ritmica perché arrivano dalla Val di Non le campionesse nazionali WISP di ginnastica ritmica, categoria junior. Si tratta di Jenny e Jennifer Arnoldi, nomi molto simili ma non sono sorelle, abitano rispettivamente a Villa e Danaunia e a Banco di San Zeno. 15 anni, già campionesse regionali di coppia con cerchio e palla, ora hanno conquistato il primo posto nei nazionali WISP di ginnastica ritmica che si sono svolti la scorsa settimana a Follonica in Toscana. Ottimi risultati anche per altre due ginnaste della Val di Non, Lisa Bertagnoli, medaglia d'oro col nastro, medaglia di bronzo per Emily Sayu con la fune. Le ginnaste gareggiano per la società Smile SSD e sono allenate da Valentina Vulcan.